Ben trovati al meteo moderata alta pressione sul nostro territorio dove prevale ancora il bel tempo il dettaglio di giovedì 17 settembre sul Veneto sulle zone montane tempo leggermente variabile con spazi di sereno alternati a nubi sparse soprattutto a partire dalle ore centrali. Sulle zone pianeggianti ampio soleggiamento cielo da sereno a poco nuvoloso temperature in lieve aumento minime fino a 20 gradi massime invece tra 27 e 33 gradi all'incirca ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia dove avremo sostanzialmente la stessa situazione con tanto sole su tutti i settori al pomeriggio addensamenti sui rilievi e locali piogge. Temperature minime tra 18 e 21 gradi massime sui 30 e 31. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige sempre soleggiato anche qui col passare delle ore occasionali acquazzoni un po' su tutti i settori. Temperature minime sui 15 e 16 gradi massime sui 28 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto grazie per l'attenzione arrivederci. Grazie a tutti.